Bella a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo video, io sono Fra e qui siamo nel canale dei 2 Bombers 71. Oggi proveremo questo bellissimo gioco che si chiama SBK 2016 e cercheremo di arrivare al primo posto. Ok ragazzi, iniziamo! Ok. Ok ragazzi, iniziamo! Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.